questo è il DAX venerdì chiude a 13.780 esattamente a 13.787 che era il livello che avevo segnalato nei giorni scorsi come supporto da tenere d'occhio ora questo non è un caso né io ho la palla, questi sono livelli tecnici che sono facilmente determinabili da chiunque impari a farlo e comunque come vedete funzionano, hanno la loro rilevanza siamo fondamentalmente rimasti all'interno della candela di lunedì che era il fenomeno che vi segnalavo anche qualche giorno fa quindi siamo in una fase di rotazioni intraday in attesa di un'uscita che dovrebbe essere di qualche punto percentuale perché normalmente questo accade quando appunto ci si infila in questi trading range che volendo possiamo estendere anche al giovedì della settimana prima questo è stato un tentativo fallito venerdì 8 con un tentativo di uscire a gap verso l'alto poi rientrato quindi questi sono trading range prolungati ieri a dire il vero c'è stato un tentativo di uscire verso il basso ma non è andato a buon fine in finale di seduta tutto è rientrato all'interno del range siamo sopra dei supporti molto forti quindi il trend come vedete rimane ancora impostato costruttivamente con massimi crescenti e minimi crescenti la situazione cambierebbe alla violazione ecco giusto per dare dei riferimenti per i prossimi giorni questo sicuramente è un supporto importante in area 13.3-13.4 quindi sotto la volatility stop line che potrebbe la cui violazione potrebbe dar vita a un movimento un po' più consistente e prolungato gli altri indici sono tutti nella stessa situazione come avevo segnalato infatti è singolare questo è il Dow Jones in America guardate stessa cosa ieri ha tentato l'uscita verso il basso e poi è andato a chiudere all'interno del trading range dei giorni precedenti anche per il Dow Jones questo è il 3, 4, 5, 6 settimo giorno di chiusure all'interno del range quasi tutta la giornata è stata svolta cioè buona parte della giornata è stata svolta all'interno del range stessa cosa per quello che riguarda l'S&P quindi azionari in questo stato di stand by le novità vengono dall'euro dollaro che ha lasciato area 1.22 sembrerebbe dirigersi verso il supporto a 1.20 anche questa è un'area di supporto molto forte per l'euro dollaro quest'area qui però anche in questo caso abbiamo un'impostazione di medio lungo positiva quindi siamo in una fase di correzione dopo la galoppata che l'ha portato fino a 1.23.5 dopo il break di area 1.19 1.20 quindi il livello da tenerdocchio appunto è questo qui che ho segnalato in area 1.20 per la prossima settimana impostazione generale di medio lungo comunque ancora costruttiva vedete che tra l'altro la volatilità di stop line non ha ancora cambiato colore non ha cambiato segno stessa cosa per l'oro 1.8.50 ha vacillato ieri c'è stata una chiusura in allontanamento in area 1.8.30 prima di dire che ci dirigiamo verso 1.750 io aspetterei ancora lunedì martedì perché comunque la chiusura di ieri è stata relativamente debole con volumi deboli vedete anche in questo caso la volatilità di stop line non ha ancora cambiato colore quindi io attenderei una conferma la rottura di quest'area quindi se questo dovesse rivelarsi alla fine un flag di prosecuzione dopo l'impulso ribassista dovuto all'esito delle elezioni faccio un riepilogo per chi non ha seguito non ha avuto modo di seguire la settimana scorsa questo movimento è stato innescato dal rialzo dei tassi impliciti americani a valle della presa di controllo del Parlamento americano dei democratici con la vittoria delle elezioni questo non ha niente a che vedere con le rivolte tutti quegli altri sono eventi che praticamente hanno influito zero sui mercati finanziari quello che ha influito è il controllo democratico del Parlamento che lascia aperta adesso la porta dei piani di stimolo molto importanti si parla di 2 trilioni di dollari quindi quello che è avvenuto è che c'è stato uno spike sui tassi impliciti che ora andremo a vedere l'oro ne ha risentito quindi era da stabilire se questo impulso ribassista poi avrebbe avuto un seguito o no per il momento siamo ancora a formare quello che potrebbe essere un flag di prosecuzione verso area 1750 quindi adesso a questo punto quest'area di 1850-1830 è da seguire per la settimana prossima a questo proposito ricordo che lunedì sono chiusi i mercati americani chiaramente l'oro comunque ha trading in Asia e in Europa quindi lo dico perché mi è venuto in mente non ha niente a che vedere con loro però i mercati americani sono chiusi quindi non avremo l'azionario americano lunedì per la festa di Martin Luther King quello che volevo far vedere questo è il rendimento del decennale americano ecco quello che vi dicevo quello che è successo dopo le elezioni che hanno portato l'elezione dei due senatori in Georgia e la presa di controllo del Parlamento la maggioranza di fatti democratici hanno la maggioranza sia alla Camera che al Senato ecco questa risalita dei tassi impliciti ha portato un piccolo sconquasso ivi compreso appunto il rafforzamento del dollaro che vedete qui sull'euro-dollaro effetti a catena poi su altri strumenti chiuderei con un'occhiata quindi ieri giornata di correzione un po' per non solo quindi per l'oro ma anche per altre commodities e metalli quindi il petrolio fa un meno 2,95 ma siamo ancora assolutamente nell'ambito di movimenti correttivi potremmo andare a rivedere area 49 nei prossimi giorni ma qua ci sta tutto vedete il cammino che è stato fatto dal petrolio a partire dal 3 novembre senza sosta praticamente è passato da 35 a 54 una galoppata senza sosta come quella del rame che anch'esso dà segnali di voler consolidare i notevoli avanzamenti effettuati nel corso degli ultimi due mesi va bene direi è tutto come quadro settimanale noi comunque ci aggiorniamo a lunedì i nostri mercati sono aperti lasciatemi come sempre nei commenti le vostre segnalazioni su particolari titoli o strumenti a cui volete che si dia un'occhiata diamo volentieri un'occhiata tutti assieme e per il resto vi auguro buon fine settimana e grazie dell'attenzione